Proseguono i lavori per la messa in sicurezza del torrente Riofi e di tutta l'area della discarica di podere rota, sia per la viabilità che per le opere idrauliche. I lavori che hanno finora previsto l'apertura della nuova strada della Badiola alla discarica si stanno concentrando adesso sulla nuova bretella che dal nuovo tratto inaugurato questa primavera si uniranno alla zona di Santa Maria. L'apertura di questa è prevista per la prossima settimana. È in fase di realizzazione anche la bocca tarata del torrente, una sorta di valvola di sfogo per far sì che durante le forti piogge l'acqua non invada i terreni limitrofi. Dopo l'apertura della bretella che da Santa Maria si unirà alla nuova strada per podere rota, questo è il cronoprogramma degli altri interventi nella zona. Da un punto di vista stradale di dover sistemare il discorso della bretella di Santa Maria che appunto nei prossimi mesi verrà colladato il ponte per poi poter procedere con i lavori e poi consisterà nella rosatoria nella zona del bivio di Piantravigne e poi l'ultimo braccetto sempre della dell'SP7 che va appunto dal bivio di Piantravigne fino al fine di intervento che sono circa 400 metri. L'ultimo tratto da dover realizzare stradale è quello in corrispondenza dell'impianto di Casa Rosa, poi si tratta essenzialmente di interventi di natura idraulica e l'opera più importante come possiamo vedere è appunto la bocca tarata dei quali stiamo stiamo iniziando a realizzare la fondazione nelle prossime settimane e contiamo insomma di concluderla prima della della fine dell'anno. Per quanto riguarda il torrente riovvio è già stato in parte risagomato e appunto la conclusione della risagomonatura dovrà avvenire quando verrà poi conclusa appunto la questa bocca tarata. Il comune rimarca l'importanza delle opere eseguite per la sicurezza idrogeologica sia nella zona della discarica che nel territorio. Ci tengo a sottolineare l'importanza della riduzione del rischio idraulico del torrente riofi, ricordo c'è anche quella sul torrente ciuffenna che è in corso e che nell'aprile, marzo aprile del prossimo anno completerà e vedrà la fine dei lavori ma ricordo anche gli vari interventi puntuali svolti e eseguiti sul borro delle ville e sul borro del tasso. Tutti gli interventi servono a ridurre il rischio idraulico dei fiumi, di questi fiumi in essere ma anche soprattutto a limitare quello che è il rischio poi di piena del fiume Arno.